ciao a tutti da nonno chef in questa puntata faremo un dolce e questo dolce lo farà un pasticciere molto ma molto particolare mi sono attrezzato per richiederlo e facciamo entrare adesso il nostro amico ed ecco qui il nostro amico giacomo vero ti chiami giacomo si è undici anni ah undici anni bravo allora vediamo un pochettino cosa facciamo oggi facciamo la terra del cioccolato e quindi hai già preparato tutti i tuoi ingredienti vero allora cosa facciamo procediamo incominciamo cosa facciamo adesso allora facciamo la torta al cioccolato e ci spostiamo sui fornelli ci spostiamo sui fornelli andiamo adesso facciamo riscaldare l'acqua per sciogliere il cioccolato mettiamo 50 cioè 250 grammi di cioccolato fondente e 50 grammi di burro nella fusione e adesso giriamo il cioccolato fondente con il burro vedete che si sta già sciogliendo mentre il cioccolato fondente si sta sciogliendo accendiamo il forno a 160 gradi ed ecco adesso passiamo al secondo step come si dice step no sono moderni dai siamo giovani cosa facciamo allora fai fai frattare un pochettino Grazie a tutti. Bravissimo, bravissimo. Gì, vediamo, facciamo la prova a vedere se è giusto. Dai, fai la prova. Giro. Piano piano, dai, forza. Gira, 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 gira. No. Perché viene giù? Cioè, devi fare così, vedi? Ah, ok. Comunque c'è la consistenza, dai, c'è la consistenza. Perfetto, perfetto. Va bene, dai. Ok. Adesso? Perfetto. Terzo step, terzo giusto? Ce la facciamo? Ehm, aggiungiamo, lo cercherai poi di nuovo. Bravo, dai. Fai tutto da solo, se hai trovato. Tutto? Sì, tutto. Poi. Ok. Bravissimo. La frusta. Prenditi nuovo la frusta, la frusta. Vai dentro. È un po' profondo questo. Adesso appoggiamato questo. Bravo. Pianco. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a prendere. il nostro cioccolato ok ecco qui vai avanti col procedimento mettiamo il cioccolato un dente dentro e poi il nuovo giacca va bene vai e certo che con queste mascherine qua non possiamo fare niente neanche prendono una dittata ce la prendiamo dai lo facciamo questa va bene non vuoi fare? dai metti un dito qua ecco vai bravo così ok adesso prendiamo i nostri bianchi uovo e lo aggiungiamo dentro al cioccolato presente quando avrò finito di girare i bianchi uovo montati con il cioccolato fondente lo aggiungiamo nella teglia vai 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 deciso deciso bravissimo forza forza bravo vai 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 tranquillo io direi che eh cosa dici? secondo te a posto? per parlare questa hai avvito? fa vedere come hai fatto per vedere bravo perfetto vedi prepara la teglia eh? bravo il futuro ok poi secondo me puoi inversare guarda la teglia guarda la teglia piano eh ti aiuto adesso aggiungiamo il nostro cioccolato fondente con gli agumi dentro la teglia bravo ed ecco qua la nostra torta al cioccolato che adesso andremo a mettere in forno pronto? allora adesso andiamo? andiamo in forno ok appoggiamo apriamo il forno acceso in questo momento a 160 gradi a 160 gradi e chiudiamo chiudiamo per 40 minuti ci vediamo scadati 40 minuti ok sono passati i nostri 40 minuti e adesso prendiamo la nostra torta ok ok 40 minuti sono passati, dovrebbero andare, eccolo qua, Giacomo, che spettacolo, spettacolare, proprio bella, è stato un successo, allora adesso assaggiamo, aspettiamo che siano freddi un po' per voi, eccoci qua, la assaggiamo adesso, mi dai l'onore di tagliarla? Sì, sì, certo, allora, andiamo, sembra, cosa dici? Mamma mia, guarda, 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 perfetta, la mettiamo, qua, ola, una, prendi, aspetta, noi ne mettiamo due fette, così, una per me e una per te, però abbiamo anche due ospiti, cioè due ospiti, sì, e c'è un po' di buon gusto, allora taglio le tre due, e mettiamo lì, così, ma è uno spettacolo, mamma mia, è venuta da lì, mi sono toccato scusate ma quando c'è voce allora dai prendi, vieni qua facciamo venire le nostre amiche adesso è già nel nostro piatto allora l'assaggiamo, vediamo com'è con le manine e l'ho che soffice, mamma mia che squisita bravissimo bravissimo mamma mia adesso tiriamo giù tutti gli ingredienti ciao a tutti da Nonno Chef e da Giacomo ciao ciao Marta e da Francesca ciao mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella per ricevere ogni nuova video ricetta e mettete un mi piace anche alla pagina di Facebook ciao 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 Grazie a tutti.